Scusate, ci siamo sbagliati. Anche questa volta, l'ennesima, la giunta regionale presieduta da Rosario Crocetta regala un clamoroso dietrofonte, rimangendosi tutto o quasi appena pochi giorni dopo la notifica a tutti i comuni siciliani della circolare esplicativa sulle modalità di entrata in vigore delle nuove norme per la decadenza di sindaci e consigli comunali. Nell'ultima seduta, la giunta siciliana ha infatti sospeso, nell'emore di acquisire il parere da parte del CGA, la circolare interpretativa dell'assessorato enti locali sulla decadenza di sindaci in caso di mancata approvazione dei bianci da parte del Consiglio Comunale. Una norma, la cui introduzione sin da subito, aveva mandato su tutte le furie lanci che già preannunciava azioni legali. A togliere le castagne dal fuoco a tutti quegli amministratori locali già turbati dalla recente circolare dell'assessore Lantieri, ci ha dunque pensato Crocetta, che incredibilmente si è accorto tardivamente delle pecche di tale norma. Non si può attribuire al sindaco che ha proposto ed approvato il bilancio in giunta la responsabilità della mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale, si legge in una nota di Palazzo Torneon. Il Governo è convinto che questa situazione potrebbe essere utilizzata al fine di creare instabilità politica, utilizzando lo strumento finanziario come emozione di sfiducia, che prevede una diversa e più qualificata maggioranza.